Una Angela Merkel irruente in Turingia si scaglia contro l'alleato socialdemocratico. A innervosire la cancelliera tedesca è la possibile alleanza di governo tra l'SPD e la sinistra radicale in questo land della Germania centrale, amministrato dai cristiano-democratici sostenuti dai socialdemocratici. La Turingia va al voto questa domenica assieme al Brandeburgo. Qui in Turingia c'è qualcosa di molto strano, un grande partito all'SPD che lascia intendere che, a prescindere da quanto saremo forti noi dopo le elezioni, si unirà a D-Link perché ritiene sia la scelta migliore per sé. Per la prima volta nel paese il capo di un governo regionale potrebbe provenire dalla Linke, che è data seconda nei sondaggi in Turingia, alle spalle della CDU e davanti alla SPD. Il governo regionale potrebbe essere composto da Linke, socialdemocratici e verdi, e prefigurare una coalizione simile anche a livello nazionale, che sarebbe numericamente maggioritaria in Parlamento. Dopo quello della Sassonia, il partito eroscettico alternativa per la Germania dovrebbe riuscire a entrare anche nel Parlamento della Turingia.